Un buongiorno ai nostri telespettatori dal CETEMS. Il quadro sinottico europeo è molto vario. Un'estesa aria depressionaria si sta espandendo dalle isole britanniche verso la penisola iberica, mentre sul Mediterraneo centrale si rafforza l'anticiclone che favorisce la risalita di aria più calda ed umida dal Nord Africa. Questa situazione barica garantirà sull'Italia centro-meridionale qualche altro giorno di tempo asciutto e mite. Per la giornata di oggi, sulla nostra regione, avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Il persistere di correnti occidentali in quota favorirà ancora il passaggio di nubi sparse e stratificate, più probabili nelle aree interne. Ampie schiarite sono attese dal pomeriggio su tutto il territorio. Le temperature previste sono in ulteriore rialzo grazie ai venti di libeccio che saranno di moderata intensità. I nostri modelli meteo per il fine settimana prevedono rinnovate condizioni di tempo stabile. Più nel dettaglio, domani avremo per lo più cieli sereni, ad eccezione di qualche velatura in rapido transito e temperature pressocche stazionarie. Domenica sono attesi cieli terzi o al più poco nuvolosi ed un lieve calo termico. Anche oggi è tutto, auguro a tutti voi un buon fine settimana e passo la linea allo studio.